Questa pillola ha avuto il via libera dall'AIFA. Però mi auguro che anche nei confronti di questa pillola, così come nei confronti dell'aborto chirurgico, ci sia una bellissima percezione di coscienza da parte dei medici. ...e una delle persone che devono corrette in Italia e in altri paesi europei per essere introdotte nel mercato della prostituzione. È uno dei dati emersi dal dossier sulle donne nigeriane promosso dalla Cooperativa Sociale per i Diritti degli Immigrati, B-Free, in collaborazione con l'Assessorato ai Servizi Sociali...